Didacta a Bari, un appuntamento importante a cui Argo nemmeno quest'anno poteva mancare, con questo spin-off di Firenze, ovviamente ci saremo anche a Firenze, perché in realtà Argo in una situazione, in un evento come questo non può non esserci, perché è un'occasione per noi per incontrare le scuole, presentare i prodotti nuovi, tra cui Biblioteca, che è l'ultimo nato e sarà rilasciato nelle prossime settimane, ovviamente totalmente in cloud, ma anche perché quest'anno abbiamo il piacere di aver ricevuto la visita di Paolo, cioè Orizzonte Scuola. La collaborazione tra Orizzonte Scuola e Argo Software è una collaborazione che dura già da qualche anno, di fatti all'interno dell'app Argo di Rigo, da qualche anno sono state inserite delle news provenienti da Orizzonte Scuola, ma anche le guide normative, una collaborazione che negli ultimi mesi si è cresciuta e infatti all'interno sempre dell'app Argo di Rigo è stato inserito anche un calendario delle scadenze, un'agenda delle scadenze, degli impegni delle istituzioni scolastiche, con link che riportano a delle risorse legate alla scadenza stessa. per quanti utilizzano i software Argo poter usufruire per gli abbonamenti alle nostre aree plus di Orizzonte Scuola legate alle esigenze della dirigenza, del DSGA e delle segreterie uno sconto del 20%.